Siamo qui in compagnia dei Betty e per una breve intervista e chiedo non siete al vostro primo disco, ne avete già fatti altri, ma è sempre un'emozione, suppongo, presentare un nuovo lavoro. Ciao, io sono Ottavio, non faccio parte del gruppo come musicista dal vivo o in studio, ho partecipato con piccoli cammè musicali, ma sono il produttore artistico di questo nuovo disco, sì, assolutamente, fare un disco nuovo, fare un nuovo lavoro, anche reinterpretare alcuni brani vecchi con una nuova produzione, è una cosa assolutamente emozionante e dà nuova linfa, nuova vita a un po' tutto il progetto musicale, a tutto quello che è stato il percorso dei Betty fino ad oggi. Suppongo che anche in questo nuovo lavoro voi parlerete del territorio, di ciò che è vicino a voi, in quale veste? Noi abbiamo raccontato non solo la storia della Sicilia, ma la storia dei Betty, quindi della nostra musica siciliana in questi ultimi 15 anni. Per arrivare al nuovo singolo che presenteremo, spero qua, fra qualche settimana, che si intitola Non chiamatemi for singer, che è un po' il manifesto di quello che abbiamo raccontato, quindi noi parliamo in questo pezzo della nostra terra, del nostro modo di raccontare la nostra terra, quindi questo folk molto contaminato, con generi completamente diversi, quindi un folk moderno, fresco, quasi non convenzionale, non lo definito. Dunque è un lavoro che presenta un quid di novità sicuramente, ma che si riallaccia anche con i vostri lavori precedenti, magari rivisitati o dando un'interpretazione diversa, ma sempre nel solco della tradizione comunque. Non solo, non solo, i brani abbiamo pensato di fare un, diciamo, the best of, senza prendere i brani già registrati in passato, ma ripresentandoli come li portiamo adesso sul palco, quindi oltre agli strumenti tradizionali ci sono anche batterie, chitarre lette, quindi è diventato un po' una fusione tra antico e moderno. Il periodo, purtroppo, quello della pandemia è un periodo particolare, come vi siete preparati ad affrontare, a fare veicolare questo vostro prodotto in un periodo così di incertezza, se vogliamo, da un punto di vista del live? Allora, noi fino a quando è stato possibile ci siamo visti in sala prove per completare i brani e poi abbiamo avuto anche la possibilità, proprio sul filo di lana, siamo riusciti anche ad andare in studio di registrazione per completare le registrazioni. Purtroppo, il live, Davide ha detto che questo disco ancora deve essere presentato, quindi ancora noi, ufficialmente, soprattutto alcuni, diciamo, i brani che sono quelli inediti, quelli nuovi, perché oltre appunto al best of, come diceva Mimì, ci sono anche dei brani nuovi, per cui questi qua ancora devono essere presentati, sono inediti. Il live, purtroppo, dobbiamo aspettare, ci vuole tanta fiducia e tanta pazienza, e speriamo che non passi l'estate, che noi possiamo risalire su un palco e fare felici anche i nostri fan. Grazie a tutti voi e grazie di essere venuti nella nostra emittente. Buona fortuna! Grazie a tutti! Grazie a tutti!